Karin Kacchanov è l'avversario di Grigor Dimitrov. Stupenda. Mamma mia. L'ha capita, l'ha capita. Benissimo. Primo set Karin Kacchanov. Che bella. Mamma mia, che controbalzo. E con la prima di servizio, Grigor Dimitrov conquista il secondo set. Ha il contrapiede, finisce a gambe per aria, Dimitrov, bravissimo. E sai che è buona? E sai che è buona? Che cosa ha fatto? E sbaglia, un altro dritto, dietro al servizio, Karin Kacchanov. Alla fine, in qualche modo, ne esce Grigor Dimitrov. Fa... 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 Fa...